Storia di sostenibilità è stata l'ispirazione che ha portato al corso che è partito proprio il 28 di settembre dedicato ai restauratori di Genova di Gura Bormè, Food Heroes, eroi dell'alimentazione, che per la giornata mondiale dell'alimentazione, il 16 ottobre, all'interno dei loro locali vi faranno vivere un'esperienza sostenibile. FIGITAL EXPERIENCE in onore di GNAV 2012. Siamo contentissimi di aver partecipato a queste tre giorni organizzata con il marchio di qualità della Camera di Commercio Genova Liguria Gourmet e il SIN. Abbiamo capito che è essenziale e sempre più importante fare cultura e soprattutto rendersi disponibili per la sostenibilità e per avere un'alimentazione sana. In questi tre giorni abbiamo parlato di diversi argomenti, di argomenti che avevamo già trattato in precedenza, quindi la dieta mediterranea, il bilanciamento chilocalorico delle ricette, ma molto interessante i nuovi argomenti che abbiamo trattato che sono argomenti molto attuali riguardo appunto l'impatto ambientale che le ricette hanno sulla nostra cucina. Il discorso molto semplice è sul riconoscimento dei prodotti e sull'arrivo dei prodotti, oltre che sulla qualità, per cui le nostre ricette verranno sempre migliorate andando a favore della qualità e dei minori tragitti di percorso per avere conseguenza un prodotto finito migliore e una sostenibilità maggiore. Oggi ho avuto intanto forse una conferma che mi ha fatto estremamente piacere che è quella che probabilmente i nostri piatti sono già sostenibili, perché comunque non soltanto l'attenzione ma la filosofia che seguiamo per la creazione dei nostri menu sicuramente rispecchia e rispetta queste tematiche, tematiche molto interessanti, tematiche molto complesse che non hanno solo a che fare con la pratica di cucina ma una vera e propria consapevolezza di uno stile di vita più sostenibile, che vuole dire che abbraccia 700.000 temi ma che sono tutti molto molto interconnessi tra di loro.